Si è tenuta questa mattina presso la sede dell'Istituto di Formazione Professionale a Enaip all'Isola dell'Unione a Chioggia la presentazione che ha visto protagonista il Grand Cube Blue, in simbiosi con una specialità del nostro territorio, il radicchio di Chioggia IGP. La presentazione è stata fatta dal direttore dell'Istituto Stefano Ciccigoi davanti a un pubblico formato da stakeholders e dagli allievi del quarto anno, operatori di sala seguiti dalla docente Francesca Veronese, che sta condividendo con loro le competenze per poter gestire un servizio enogastronomico. Per i ragazzi potersi incontrare oggi con i soci di un'azienda produttrice in campo alimentare è un valore aggiunto. Mediatore tra i vari interventi Paolo Carattosidis, autore del libro Grand Cube Blue, minaccia o risorsa, il quale si è complimentato per l'ospitalità data agli da Enaip, un istituto definito all'avanguardia con un'ampia visione del futuro. Grand Cube Blue, un tema comunque delicato, dato che si tratta di una specie che sta decimando una risorsa, la vongola verace non tipica del nostro territorio, ma che fu aliena, introdotta negli ultimi decenni del secolo scorso. Ora, questa specie aliena, il Grand Cube Blue, moltiplicatosi a dismisura in quest'ultimo anno a causa di vari fattori, tra cui il cambiamento climatico, l'apporto notevole di acqua dolce in mare, sta muovendosi anche verso l'entroterra, risalendo i corsi d'acqua, ma non costituisce l'unica specie all'octona a danneggiare la pesca. Di questo nuovo prodotto della filiera etica si deve cercare ora di trarre il massimo, di osservarlo da una differente prospettiva seguendo la cultura gastronomica e traducendo la minaccia in opportunità, avvicinandoci alla questione con un approccio costruttivo a favore della filiera economica e convertendo la sua valenza negativa in lavoro, occupazione e profitto. Il pastificio Artusi è stato il primo a lanciare sul mercato questo prodotto gastronomico di prima qualità e ciò nel mercato può fare la differenza, identificando l'innovazione che, d'altra parte, deve essere anche comunicata. Parlare bene del Grand Cube Blue e delle sue potenzialità nel momento in cui era demonizzato da chiunque è stata comunque una scelta coraggiosa, ricorda Caratossidis, e per alcuni è stata vista come una pazzia. Giuseppe Boscolo Palo, amministratore unico di Chioggia Orto Mercato, da anni conosce i soci e i titolari del pastificio Artusi, Alberto e De Enrico. Con loro, pastificio che lavora solo prodotti d'eccellenza, ha già avuto occasione di dare risalto al radicchio di Chioggia IGP. Ora ha accettato questa nuova sfida, che vede associarsi la parte amara del radicchio di Chioggia con la dolcezza del Grand Cube Blue, dando vita a un interessante connubio che richiama la territorialità e quindi la storia e il terroir. I fratelli Artusi, sentita la preoccupazione verso il Grand Cube Blue e i danni procurati, hanno voluto provare a sfruttarlo per la sua polpa, portando anche in questo caso il made in Italy nel piatto. Artusi è un pastificio che ora conta 35 dipendenti, cresciuta nel tempo grazie alla passione, la stessa che dovrebbe portare i ragazzi dell'ultimo anno a investire su se stessi da imprenditori. Intervenuto al termine il consigliere regionale Dolfin, che non può che apprezzare la scelta di trasformare la minaccia in una risorsa, domandandosi però se ci sia qualcuno che si sia lasciato sfuggire dalle mani un problema, ora apparentemente incontenibile, forse, supponiamo, sottovalutando i dati di crescita emersi. Le domande che i ragazzi hanno rivolto al termine della presentazione sono state coerenti con il tipo di studio che stanno facendo in quest'ultimo anno professionalizzante. Al termine è un buffet conviviale realizzato dagli alunni delle classi seconde, oltre ai ravioli della famiglia Artusi è visto realizzate con la polpa del granchio blu, polpette, tartine e la pizza. Naima, la profumeria che non ti aspetti, con una scelta che non ti aspetti, le migliori fragranze, le firme più chic, tutto quello che ti serve per valorizzare la tua bellezza lo trovi da Naima. Scopri i prezzi di Naima, in occasione del Black Friday sarà ancora più piacevole comprare da Naima, con sconti del 40 e 50%, anche sabato. Naima, in corso del popolo a Chioggia.